Ma stai riprendendo? Adesso si! Ho detto un po' di sole è buona, un po' il tonno. Dai amore, facendo queste non li vedo più. Dov'è? Ah eccolo lì. Eh vabbè ma una questione di un attimo, vedi pure lì? Eccolo lì, sinistra. Tu riprendi? Eh sì sì, stai riprendendo. Non ci fai a vederli tutti? Tra l'altro stanno le elettrovie che c'ha portato. Uh questo ti ha visto bene eh? Questo ti ha visto bene? Io non l'ho visto però. Ma Murino, come fai a non vederlo? Sto guardando Dino. Sto guardando Dino. Dai! Dai!